Pasquale Caderizzano è sicuramente un precursore dei tempi, un grande motivatore anche lui è la competenza del social network fatto a persona. Ti sa veramente istruire le tecniche del social media marketing dalla A alla Z. Perché se vi siete posto il problema state già attuando quel cambiamento di cui vi parlava Filippo, lo state già attuando, io per questo vi faccio i complimenti. Ho scoperto grazie a lui delle cose per me fuori dal mondo. Ci ha dato gli strumenti per valutare il lavoro in modo diverso. Pasquale è il guru dei social. Questa cosa la faccio vedere sempre perché è incredibile, è la velocità con la quale gli strumenti social network contattano 50 milioni di persone. Pasquale Caderizzano è una persona di esperienza che ha saputo sfruttare molto bene anche lui social network e che forma insieme a Filippo Cazzola un team vincente.